e bella a tutti ragazzi sono gilberga sono qui oggi a mostrarvi la sfida della stella di questa settimana qua la settimana che completerà tra le sfide per arrivare alla skin road trip quindi lascia like se anche tu questa settimana qua sbloccherai la skin prima di iniziare però vi ricordo due cose una è che ieri ho caricato un video in cui vi mostro le skin che ci saranno nello shop da da oggi da stanotte fino alle prossime due settimane qua sono riusciti a le carle tutte quindi se volete le trovate nel video di chi vi ricordo anche che saluto due persone a video che mi seguono o mi mettono mi piace alle foto su instagram profilo di gilbeo quando è questa volta qua sono davide pezzotti e mattia care du official in una ricadere che possiamo partire direttamente col video allora ragazzuoli la sfida di questa domanda qua è una mappa del tesoro dove c'è potete vedere tra l'altro la stone head con i baffi e la stella si troverà esattamente come mostra la mappa del tesoro all'interno dei tre alberi dietro la faccia di pietra stone head vi sto pingando adesso il punto dove si trova la stone head e la stella si troverà esattamente dietro fra i tre alberi adesso vi mostro qual è la stone head quella con quelle che sono le braccine dall'alto nella nella cosa in realtà sono semplicemente un reticolo fatto di di legni di tronchi qua troverete la stone head e dietro come vi sto per mostrarlo adesso dovrete all'interno di questi tre alberi che si trovano posteriormente rispetto alla roccia troverete esattamente qua penso non sono sicuro ma penso in teoria chi trova esattamente al centro qua dove c'è questa macchia però in teoria dovrebbe essere lì sicuramente non lo so in teoria o è lì o è leggermente di fianco comunque non dovreste avere problemi a trovarla se no se in qualche altro punto invito quelli che l'hanno trovata a lasciare un commento sotto visto che io sto cliccando quindi sono la sera prima a registrare quando le sfide non sono ancora uscite quindi nulla rega direi che potete lasciare un bel like ci becchiamo direttamente al prossimo video